è il penultimo atto della stagione della Serie A Famili Bay per quello che riguarda la pool Scudetto turno numero 27 della stagione 23-24 e Inter contro Sassuolo muove davanti a lei Cullasci poi suggerimento per lo scatto di Beccari che può controllare il nade di rigore Beccari, Beccari perde l'attimo buono per calciare lo ritrova Prugna e al quinto minuto il Sassuolo sblocca il risultato grandestro all'angolino per Cecilia Prugna e Inter costretta di inseguire il mancato, la mancata conclusione da parte di Beccari, il rimpallo che favorisce Prugna che controlla e prima dell'arrivo di Milinkovic trova lo spazio per superare Zetigna e il suo secondo gol in stagione prova l'Inter con l'aggressività da parte di Polli a recuperare il pallone lo apre a sinistra per Bugeia sta arrivando Milinkovic a rimorchio palla che bizzica all'esterno della rete ha visto toccare quota tre reti ma come dicevamo ancora con margini di crescita importanti attenzione intanto al Sassuolo Cullasci guarda in mezzo e al secondo tentativo il Sassuolo concede il bis ha segnato la violana a Cleland ed è 2 a 0 allo scadere esatto dei primi 20 minuti contro la ventunesima formazione diversa il suo secondo gol sarebbe a finire l'Ebay bello il tocco con l'esterno da parte di Cullasci e poi forse anche una deviazione che rende imparabile il tentativo di prima intenzione di Lana Cleland festeggiata così dalle sue compagne sceglie Magul che non trova lo spazio per calciare può offrire invece a Togersen che colpisce la traversa non è finita Polli in precario equilibrio la gira come viene para Duran Inter vicinissima al gol dell'1-2 e ora Duran fa segno di aver bisogno di l'aiuto del staff sanitario qui ovviamente va a battere il ginocchio nel tentativo di opporsi alla conclusione di Togersen che si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea per il partiere francese che si fa trovare pronta anche sul tentativo di tapir avvicinato da parte di Polli ma se non altro è un Inter che al puntista caratteriale mostra qualcosa con Elisa Alborghetti sul punto di battuta palla che arriva morbida verso il secondo palo altro legno terzo legno pazzesco è un pomeriggio stregato per l'Inter prima con Bonfantini poi con Magul per venire così Alborghetti verso il secondo palo si coordina Bonfantini con la punta delle dita Duran la manda sulla traversa e poi è Sisar non Magul Sisar a cercare in qualche modo in precario equilibrio di correggerla in porta possibilità di andare al fattore il contrasorpasso visto che gli impegni ufficiali dell'Inter si chiudono questo pomeriggio intanto occhio alla deviazione da Vardi Filangeri con la parata in qualche maniera di Zettinia poi l'intervento è il calcio di rigore calcio di rigore per il Sassuolo l'intervento su Prugna non ha avuto dubbi Deusani indicare il dischetto proteste nero-azzurre si va a chiedere anche il conforto dell'assistente qua rivediamo una deviazione una respinta difettosa da parte di Zettinia ancora Sassuolo con Beccari che cerca di metterla in mezzo e questo è Sisar che sembra però colpire nettamente il pallone Lana Cleland è già pronta dal dischetto siamo già oltre i sedi recupero il Sassuolo che ha la grande chance di volare sul 3-0 con il destro di Cleland che si concede il lusso della doppietta è l'ultimo highlight di un primo tempo che certifica il dominio del Sassuolo di Piovani avanti di tre reti all'Arena Civica Gianni Vrera Prugna e due volte Cleland Inter non pervenuta Inter che ha avuto a onor del vero le sue occasioni a suonare la carica un gol potrebbe accendere la sfida accendere questo secondo tempo e regalare un po' di pepe Magul battuta tesa deviazione di Sisar si salva con un altro grande riflesso Duran occhio della parte opposta Beccari difesa dell'Inter completamente spaccata in due tocco dentro Cleland Cleland è tripletta e 4 a 0 per il Sassuolo l'Inter aveva fatto in tempo a rimettersi a posto a riordinarsi ha preso un altro due contro due e probabilmente mette il punto esclamativo sul successo delle ragazze di Piovani sul capo dell'Inter già dalla stagione regolare si era capito che non ci sarebbe stato nulla da fare per Juventus Fiorentina per le altre contendenti dato Polli dentro per Bugeia eccolo il gol dell'Inter per provare a rendere un po' meno deludente il pomeriggio dell'arena con il conclusione sull'uscita da parte di Duran che infila nell'angolino terzo gol in stagione che suggerisce la prima intenzione per Bonfantini si chiude il triangolo Magul in mezzo e Polli di testa per il 2-4 attenzione c'è ancora vita per l'Inter che di mezza il gap nello spazio di tre minuti prima Bugeia poi Polli che dopo l'assist trova dunque un gol anche pregetto con Roma campione in Italia in Champions League alla pari di Juventus e Fiorentina Roma e Fiorentina che chiuderanno poi completamente i battenti della stagione 23-24 il 24 di maggio con la finale di Coppa Italia occhio al Sassuolo che va a colpire una traversa clamorosa con Monterubiano super conclusione di Valeria Monterubiano quella porta via un avversario con un movimento intelligente Sabatino destro a spiovere palla che va a schiantarsi proprio contro l'incrocio dei pali i tifosi termina dunque 4-2 nel segno della tripletta di Lana Cleland grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti